Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video Scusate per la posizione bruttissima Io che mi sono appena svegliata, la coda E niente, volevo fare questo video perché era importantissimo Prima che andassi in vacanza, ne ho appena pubblicato uno Quindi andatelo a vedere, ho fatto anche il semi permanente ieri Eccolo, e niente, volevo dirvi soltanto Una cosa bellissima Allora, visto che già ne siamo 30.000 E di solito i primi incontri si fanno a 40.000 Ma sicuramente dopo l'estate, quindi dopo agosto Sicuramente ne saremo a 40.000 Perché già stiamo crescendo tantissimo E ne siamo tipo 30.200, 30.000 e queste cose Io stavo pensando ad un incontro perché ovviamente me lo chiedete sempre E quello che io devo fare per voi è sicuramente rendervi felici Perché io non devo fare nient'altro che rendere felice voi E da accontentare le vostre richieste di video, di foto, di 21 buttons che mi avete chiesto Di challenge e di incontri E stavo pensando Di organizzare un incontro tutto mio Come organizzare tipo Marica Festa Non so se la conoscete, io la amo E spero un giorno di diventare anche grande come lei Nel senso di iscritti, di persone che la seguono Stavo pensando di organizzare un incontro tutto mio Molto sofisticato, molto bello Al bosco di Capodimonte Se non lo conoscete vi lascio la posizione sulla mia storia Comunque il bosco di Capodimonte Quello lì che si trova appunto a Capodimonte E il bosco Che pensavo che se ci portavamo le asciugamani Io portavo qualcosa da mangiare Sarebbe bellissimo farci tutti quanti una chiacchierata sul prato Ovviamente potete anche fare foto Potete anche fare foto con me Autografi Non lo so Scritte Vi potete far fare la firma sul diario Non so sul braccio Non so Vedete voi dove più vi piace E poi ovviamente dove ho fatto foto Musical.ly Video su YouTube Ci possiamo sedere tutte e quante sul prato in cerchio E farci una chiacchierata tipo Ognuno Tipo A numero Tipo Uno per volta mi fa una domanda Io lo devo rispondere A me piacciono queste cose E qui non ho il solito incontro Tipo Che vi fate la foto Mi metto la firma per esempio al libro Che non ho E ve ne andate No a me non piace assolutamente così Vorrei fare Una cosa anche che potete parlare con me Potete fare tutto questo E quindi la vedo più una cosa così Molto più carina Farla così Non la vedo una cosa carina Tipo non parlare in vatti Lì c'è il prato Quindi ci mettiamo tutte e quante a cerchio Possiamo giocare a palla Possiamo fare Tantissime cose Quindi se vi va piacere Scrivetemelo qui Un basso ufficiale Datemi a seguire Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti